Perché secondo me il commercio equa e solidale si colloca sul punto di confine, ecco perché è sottoposto a pressioni e a tensioni la più facile delle quali la sapete è che la vostra attività viene reinglobata nel normale funzionamento del mercato è un'attività un po' particolare, un po' doc, magari un pochetto più morale ma sostanzialmente mette olio sul sistema non è che lo mette in difficoltà, cioè quella parola alternativa, un approccio alternativo salta subito se la pressione non viene affrontata con coscienza critica, appunto con momenti in cui non solo si fanno modifiche di statuto di aggiornamento tecnico ma si vede anche dove stiamo andando, qual è la prospettiva, qual è l'attività di formazione qual è l'impatto politico della nostra attività e questo è fondamentale, non credo proprio che sia un'attività riducibile a criteri organizzativi, appunto a razionalizzazioni organizzative, è un'attività che sta su quel confine qual è il confine in cui c'è proprio un fortissimo contrasto, o noi lasciamo che l'umanità sia mercatizzata o sia disarticolata, tanto che gli esseri umani sono chiamati risorse e desuberi cioè i nomi economici per dire le persone, risorse e desuberi o al contrario il mercato viene umanizzato, cioè riportato come strumento alle esigenze dell'umanità come sappiamo che non lo possiamo polire, ma che abbiamo la nostalgia per il socialismo reale modello economico adeguato in realtà non c'è nel passato, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo generarlo non è che il modello medievale, il modello comunista, il modello del primo capitalino, non c'è un modello adeguato un vero ordine di convivenza, una vera democrazia economica non l'abbiamo mai conosciuta stiamo balbettando degli esperimenti che chissà quanti anni metteranno allora in questa tensione la consapevolezza secondo me di questo movimento deve essere proprio quella di chi dice anche nei criteri organizzativi più minuti, più spiccioli, più determinati con quelli alcuni dei quali sono stati presentati oggi dobbiamo sempre stare attenti, da una parte sia verificare proprio la concretezza, la fedeltà operativa di quello che si fa e quindi va bene dall'altra capite anche se psicologicamente la visibilità, la misurabilità, la quantificabilità ci rassicurano, io caspita sono arrivato al 60% che hanno fatto questo capite che non è solo quello il criterio l'altro grande criterio è quello di vedere qual è ma questo è un confronto che si fa insieme, non è che ci stanno indicatori numerici, oggettivi non tutto si può misurare con i numeri allora lì il criterio è in quale misura siamo riusciti a invertire alcune tendenze cioè che la nostra esperienza che vale soprattutto per il suo impatto culturale sia un elemento di trasformazione di questo sguardo cioè aiuta la gestazione di un'economia umanizzata ecco perché nessun criterio funzionale va isolato bastano mai solo i criteri organizzativi anche perché su quel piano il mercato tradizionale è molto più potente e vince prima è molto più potente